Siape mobile C'è Sinverguenza che si riprende miracosamente da una potenziale caduta E ora torna di fuori a Salotaris in terza posizione Manacerace In quarta Livet e in quinta Desert Woman Sesta Vis Roboris con Sinverguenza che si riprende Liquida la pratica Salotaris deve parare Manacerace In terza corsia si fa minaccioso nel frattempo Livet Poi Desert Woman che insegue Lo scatto di Livet che va su Manacerace Attacca anche Sinverguenza Tre cavalli in linea a questo punto Con Sinverguenza aggredita e superata da Livet e Manacerace Più indietro C'è stata una caduta Livet che sta passando su Manacerace Più indietro Sinverguenza Desert Woman che si unisce a grandi folate all'interno Livet, Manacerace ma soprattutto Desert Woman Che viene con altro passo all'interno Desert Woman che va a vincere su Manacerace e Livet Grande monta, grande aggressione finale nel tratto piano dei Desert Woman Davide Viola che ha montato davvero bene Manacerace e Livet Secondi e Terzi E poi Sinverguenza Grazie a tutti Grazie a tutti